Una settimana ricca di gossip si è appena conclusa, con notizie che vanno da ballando con le stelle al Grande Fratello, passando per la diatriba tra Ilari Blasi e Francesco Totti. Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, mentre Bianca Guacero ha rotto il silenzio sulla sua storia con Giovanni Pernice. Ilari Blasi è stata fotografata con Bastian Muller che sembra accarezzarle la pancia, forse in segno di un bebè in arrivo. Shaila e Lorenzo del Grande Fratello hanno creato scandalo per un dettaglio piccante. Bianca Guacero ha dichiarato di essere felice con Giovanni Pernice, definendolo una persona che la sta facendo diventare migliore. Anche la madre di Bianca sembra approvare la relazione, augurando alla figlia amore e felicità. Nel frattempo, Ilari Blasi sembra pronta ad avere un figlio con Bastian Muller, mentre Belen Rodriguez ha parlato del suo passato con Stefano De Martino. Shaila e Lorenzo del Grande Fratello hanno fatto parlare di sé per le scene di passione sfrenata nella casa, con l'indiscrezione di 12 profilattici usati in una sola settimana. La brutta atmosfera creata dai due coinquilini ha suscitato polemiche tra gli altri partecipanti. La prossima settimana promette nuovi scoop e gossip da non perdere. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie su TV.